ah no, non c'è per playstation 5 lo so, è un brutto momento per i giocatori della piattaforma sony ma questa è la prima cosa da sapere su starfield per playstation 5 non c'è mentre invece sarà disponibile dal day one dal vero day one, non dall'accesso anticipato su xbox game pass sia su pc che su console ma ehi, che cosa succede se io non ho un pc e non ho una console xbox? ti fai un bel abbonamento a xbox game pass ultimate dopodiché da qualsiasi dispositivo potrai accedere alla versione del gioco in cloud l'unica cosa di cui hai bisogno è di una buona connessione quindi non disperarti, con 14,99€ puoi giocare a starfield anche tu per un mese e provarlo prima di andare avanti, passa qua sotto in descrizione perché c'è il link al nostro gruppo facebook dedicato a starfield ovviamente se mi capiteranno dei codici per accedere un mese gratuitamente all'xbox game pass li pubblicherò lì dentro ora cerchiamo di capire insieme che cosa è starfield sostanzialmente è un'esplorazione spaziale con una missione da compiere perché ovviamente l'obiettivo è sempre andare dal punto A al punto B in linea retta, possibilmente saltellando qua e là tra quest principali e sotto quest ma l'esplorazione è soltanto contorno, non è obbligatoria se ti ricordi l'editor del personaggio, la customizzazione del tuo personaggio in Skyrim sappi che siamo avanti anni luce da quello che ci hanno fatto vedere possiamo veramente fare qualsiasi cosa e creare qualsiasi sembianza quindi incominciamo con i conti 5-6 ore soltanto per la creazione del personaggio ovviamente per i giocatori che vogliono fare roleplay o i giocatori più attenti al dettaglio per tutti gli altri ci sono anche dei volti prefatti dei personaggi prefatti da utilizzare scegliere da che parte stare come siamo combinati ha un'influenza sul gioco ma il gioco si struttura sempre da A a B fa delle curve ha delle sfumature ma alla fine dei giochi la direzione è sempre quella cambiano determinate cose durante il gioco cambiano delle amicizie delle inamicizie e altre cose di questo genere ma la struttura rimane la stessa ora ti voglio parlare di un finale ipotetico non scritto di Starfield considerando che ci sono le romance puoi acquistare appartamenti puoi acquistare case puoi edificare puoi fare un sacco di cose tu potresti anche decidere di non finire mai il gioco di portare la tua vita avanti in un mondo roleplay creato dalla tua fantasia e questo lato di tutto il discorso è molto più affascinante del vado in giro ad esplorare mille pianeti di cui soltanto il 10% sono abitati questo non vuol dire che tutto il resto sia deserto dei tartari anzi ci sono costruzioni ci sono cose ci sono mondi da esplorare da tutte le parti non sono interamente esplorabili e questo è un grosso pugno nello stomaco io lo so che tu come tanti altri hai identificato Starfield con No Man's Sky dove tu prendi la tua astronave parti in una direzione e non ti fermi finché non vedi qualcosa di interessante scegli il pianeta attracchi sul pianeta e ti parcheggi dove cavolo ti pare e da lì incominci a muoverti dimenticatelo tu ti avvicini al pianeta e poi parte la cutscene atterri dove devi atterrare e da lì incomincia l'esplorazione in un ambiente che non è completamente open world quindi ogni pianeta non è completamente esplorabile ma il mondo di gioco è open world è un concetto complesso da comprendere però il singolo pianeta non è open world ma il mondo di gioco sì però la cosa assolutamente figa è che io su ogni pianeta posso costruire la mia base posso metterci delle persone a lavorare posso creare un ecosistema che mi costa ma che mi porta anche dei guadagni perché magari è un pianeta minerario e io metto 20 persone a scavare e a minare per portarmi materiale che poi venderò per prendere altre cose diciamo che scegliere una componente gestionale alla starcraft secondo me è una carta vincente perché lega praticamente con qualsiasi gioco tu li metti a fianco attenzione però perché ogni cosa di questo genere necessita di un giusto equilibrio ovvero questa componente non ci deve permettere di strafare quindi di edificare in qualsiasi pianeta senza regole senza misura e trarre profitto da ogni singolo pianeta anche perché a questo punto basterebbe edificarne 10-20 intorno a noi più vicini e diventeremo automaticamente ricchi basterebbe lasciare accesa la console e aspettare che il tempo passi e mi è appena venuta in mente una cosa chissà se hanno pensato all'hack dove mando avanti l'orologio della console credo che sarà la prima cosa che scopriremo quando uscirà starfield parlando sempre del lato gestionale l'astronave quello che noi facciamo all'astronave non è solamente estetico tutto ha un'utilità quindi se noi potenziamo i cannoni saremo pronti per la battaglia ma magari avremo meno spazio nella stiva se noi aggiungiamo della stiva questa ci sarà veramente mentre esploriamo la nave quindi avremo anche più posto per mettere le cose per quello che riguarda la longevità del gioco invece potremmo fare praticamente qualsiasi cosa come persona all'interno del gioco noi possiamo essere chi vogliamo possiamo fare i mercanti e quindi scambiare materiali con altre astronavi possiamo essere pirati spaziali e andare ad attaccare le altre navi possiamo fingerci mercanti e poi assaltare le navi possiamo rubare le navi possiamo fare tutto possiamo essere chi vogliamo e anche l'astronave ha il suo equipaggio che possiamo assoldare a nostro piacimento a seconda dei bonus che vogliamo ottenere durante il viaggio e quando atterriamo l'equipaggio può venire con noi e fare cose e questo a quanto pare è maledettamente divertente come è divertente interagire con i pianeti con gli ecosistemi che andiamo ad esplorare perché qualsiasi cosa si può distruggere qualsiasi cosa si può rompere qualsiasi cosa si può praticamente raccogliere passiamo alla storia incredibilmente originale no ma regge e funziona nel senso io ci ho visto tanto di Indiana Jones e il teschio di cristallo ora non mi ricordo neanche come si chiama comunque il quarto di Indiana Jones dove tocchi l'oggetto alieno scopri cose e devi partire devi partire esplorare capire che cavolo succede questo mi è piaciuto nel senso mi dai una giustificazione mi dai una direzione da seguire fine non serve niente di più di questo per creare un gioco di questo genere la storia di base oltre agli input che vengono dati durante l'avanzamento la costruisci un po' te sei un po' te che ti immagini che cosa fai perché lo fai pensi come il tuo personaggio sei tu che ti immedesimi nella situazione e crei la storia crei le sfumature di quella storia per tutto il resto ci ha pensato Bethesda l'unico anello debole di tutta questa grandissima storia secondo me è lo spara spara il gioco si può vivere in prima persona o in terza e già così secondo me il tutto crea un po' di confusione il gioco o è in prima persona o è in terza saltare da una parte all'altra non so se mi piacerà non so se sarà il mio stile di gioco e soprattutto non so su che base è stato creato questo gioco non so effettivamente se Bethesda l'ha pensato come prima persona e poi ha deciso di adattare la terza o se ha pensato il gioco in terza persona e poi ha deciso di adattare la prima e lo so che mi dirai a te che cazzo cambia il concetto è molto semplice se un gioco nasce in prima persona sappiamo tutti che in prima persona renderà al 100% sarà la cosa più bella che stiamo guardando passando in terza persona probabilmente perderemo dei dettagli e non dico tanto ma renderà all'80% rispetto al gioco originale vissuto nel modo in cui gli sviluppatori l'hanno concepito bene e ora che anche questo video è finito io posso togliere da là la schermata di Starfield che non era altro che una foto sul mio telefono e ti ricordo che puoi iscriverti al canale e qua sotto in descrizione trovi tutti i link utili compreso il gruppo Facebook dedicato proprio a Starfield ciao se il tuo nome è in questa lista vuol dire che sei un nostro abbonato e quindi ci aiuti ogni mese a crescere e a migliorare portandoti contenuti sempre più nuovi se anche tu vuoi supportarci diventa un nostro abbonato potrei anche vedere i nostri video prima che escano che culo grazie a tutti